Siamo con Loris Serafini, direttore della Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo. Abbiamo ricordato un Papa benedetto in un posto particolare, in un posto santo, con questo convegno di Green Accord e questa vicinanza, questa attenzione di Papa Luciani per la natura. Sì, è bello poter celebrare la beatificazione di un Papa nato nelle Dolomiti Unesco, nel cuore, nel centro geografico delle Dolomiti Unesco. Un Papa che ha avuto nel corso della sua vita un'attenzione particolare all'ecologia. Nelle sue omelie, come è stato ricordato in particolare dalla professoressa Luciani, c'è una importante ricorrenza del tema dell'ecologia, dell'ambiente, della salvaguardia del creato temi cari all'attuale Papa Francesco, ma che hanno precorso i tempi. Oggi più che mai è necessaria questa attenzione. Ed è bello poterla riscontrare in Albino Luciani, che è nato appunto in uno dei posti più meravigliosi al mondo, ecco, le Dolomiti Unesco. Le ringrazio.